gioca e vinci con noi Alice Parma, sindaca di Sant'Arcangelo è appena terminata la conferenza quest'anno il secondo memoria del Nicoletti sembra svelare delle novità e delle cose ancora più belle rispetto all'anno scorso sì, intanto siamo ovviamente molto orgogliosi di ospitare questo memorial siamo ovviamente grati alla società FC Young per aver messo in piedi comunque un'organizzazione anche così efficace, efficiente e soprattutto che guarda a quei valori comunque che Walter ha testimoniato nella sua carriera sia da sportivo ma anche da coach il premio del coach è secondo me la novità più importante di questo torneo nel senso che è stato istituito già dalla sua prima edizione ma ovviamente nel tempo acquista un valore veramente fondamentale per quello che è la natura del memorial Nicoletti cioè l'idea che si vada a costruire una comunità di educatori sportivi che quindi guardano al campo ma guardano anche tanto fuori dal campo che sia l'occasione per le famiglie di partecipare a delle giornate importanti anche veramente appunto di costruzione della figura del bambino anche dal punto di vista proprio di quello che è lo spazio relazionale lo spazio di vivere all'interno di uno stadio il fatto di stare insieme anche fuori dallo stadio sarà un weekend bellissimo siamo all'interno comunque anche della manifestazione di Balconi Fioriti quindi la città di Sant'Arcangelo si colora di festa eccetera ma sarà anche importante per le famiglie stare qua sarà bello ovviamente stare qua sarà bello stare allo stadio Mazzola ma sarà bello anche stare a Sant'Arcangelo io voglio fare un plauso alla sindaca perché tanto so che sarà presente perché era presente anche l'ultima di campionato quando lo Young Sant'Arcangelo aveva già vinto il campionato per festeggiare l'addio al calcio di tre grandi giocatori era lì che festeggiava insieme al pubblico complimenti sì è stato un momento molto importante ma come lo sono state tutte le stagioni è chiaro che vedere una società che dal niente costruisce una relazione con la città ma anche ovviamente con i suoi giocatori con i tifosi la comunità di Sant'Arcangelo è una comunità che guarda il calcio come un processo comunque evolutivo della città per cui rispetto a questo secondo me non solo la presenza è dovuta ma io lo faccio anche veramente con passione mi piace e sono insomma cresciuta in un ambiente comunque dove il calcio ha un ruolo ovviamente anche nella costruzione delle relazioni per cui credo che sia un buon livello raggiunto da una società giovane ma la costruzione del Memorial Nicoletti lo dicevo prima in conferenza stampa è un momento importante per questa società grazie